ciao ragazzi ben ritrovati torniamo a parlare di sempreverdi di costruzione delle sempreverdi di manutenzione sto dicendo un sacco di domande anche per quanto riguarda la fioritura quindi vediamo perché togliere i fiori alla pianta cerchiamo di fare lavori che vanno fatti senza chissà quale schema strano come sapete ragazzi io ho due boschi ecipressi questo quello più giovane e come possiamo vedere è già più pieno già più formato rispetto a quello invece più grande che ho iniziato prima a coltivarlo tra parentesi questo risultato ragazzi l'ho fatto semplicemente in due anni e quindi ho impostato la pianta poi in due anni l'ho riempita ovviamente facendo una coltivazione che funziona delle potature mirate quindi si può notare che con certi tipi di pianta come cipresso che sono piante molto vigorose se andiamo con cimara bomba come si deve nel giro di due massimo tre anni ragazzi abbiamo un risultato finito ok finito non è ah no dopo sino finito cioè la pianta è finita dobbiamo solo dedicarci alla manutenzione l'altra pianta la sto coltivando da 15 anni sono un po' più indietro per due motivi il primo il primo ragazzi perché ovviamente all'inizio avevo meno competenze ero meno bravo a che impostare la pianta quindi due anni fa ho dovuto fare un restyling ho cambiato il fronte alla pianta perché col secondo fronte che ho trovato la pianta risulta molto più dinamica quindi ne acquista praticamente valore e in più non ero stato bravo a fare certe potature ai tempi quindi avevo un po' spolpato la pianta e quindi come vegetazione aveva vegetato un pochettino più piano quindi fondamentale ragazzi quando siamo in costruzione è sì fare potature che rientra che la pianta è in grado di rientrare e di vegetare dietro però attenzione non spolpate mai la pianta più del 30 per cento del dovuto questa regola ragazzi è fondamentale per continuare a costruire la pianta no stop perché se partite in primavera avete tanta roba è giusto andarla a togliere un pochettino per vegetare meglio la pianta dietro per far entrare luce però se andate a togliere veramente tanto la pianta vi va in crisi e fa fatica poi a rifare quello che aveva ok quindi l'anno l'andata a perdere semplicemente perché la pianta deve ritornare al livello precedente quindi la potatura si fa mantenendo più roba dell'anno scorso quindi dando uno step successivo di energia creando poi la forza esponenziale no perché ogni anno dovete fare almeno il doppio o il triplo della vegetazione che avete se andate a togliere troppo semplicemente vi ritrovate una pianta che ha meno energia dell'anno scorso e quindi ovviamente funziona la metà dell'anno precedente questa è una cosa che dico sempre per quanto riguarda la fioritura come sappiamo ragazzi i fiori molte persone li tolgono perché pensano che ci sia un problema per quanto riguarda l'energia no la pianta perde energia perché lo usa per fare i fiori ed è vero però in queste piante qui ragazzi i fiori sono molto piccolini dai scendi patata e soprattutto sono anche tanti 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 quindi molta fatica andarli poi dopo a togliere perché si diventa matti no dovete toglierli più che potete semplicemente per una questione di saturazione della vegetazione semplicemente per far entrare luce dentro che ragazzi quindi per quanto riguarda la costruzione della pianta cercate semplicemente di andare a pulire sempre e sempre di più dentro i palchi perché come vedete qui ragazzi è piena è piena deve entrare luce dentro quindi si fa la potatura per andare a mantenere la silhouette però fondamentale è anche togliere tutto quello che fa mondessa dentro ok perché la luce deve entrare quindi la potatura si fa primo per una questione di styling e anche per dare poi continuità a tutto il progetto via magagna e poi è importante fare anche la pulizia per far sì che la pianta vieni qui abbia sempre più la possibilità di vegetare dentro perché deve rimanere pulita più che può ok oggi non mi lascia libero andiamo a vedere un attimo dai via adesso magagna va a farti un giro ci vediamo tra un po' dai per favore come possiamo vedere ragazzi la pianta sta bene super verde dappertutto ok le mie piante non hanno nessun problema ok sono cariche stanno bene e adesso ci si dedica in questo periodo semplicemente ad andare a pulire tutta la vegetazione da quello che può creare confusione perché il problema principale di queste piante è che quando iniziano a vegetare forte vanno a saturare lo spazio ok quindi fondamentale sì pensare allo styling impostare la pianta però a un certo punto quando si riempie tanto ragazzi bisogna sempre fare manutenzione considerate questa cosa queste ragazze sono piante che fanno le squame molto piccoline ne fanno tante tante piccoline si compattono molto velocemente no quindi se sei in mezzo ci mettiamo anche i fiori ragazzi diventa un mattone di roba vanno dentro anche gli insetti si creano ragnate le strane quindi i fiori li togliamo no perché la pianta sprechi energia perché questa qui ragazzi è una pianta che di energia ne ha quanta ne volete soprattutto se avete concimato con i prodotti a bomba ok qui adesso si parte forte la potatura va fatta mantenendo sempre un 70 per cento di quello che abbiamo perché non dobbiamo tornare indietro quindi se facciamo una potatura soprattutto sulle sempreverdi andiamo a togliere più del 30 per cento di quello che c'è sopra ragazzi andiamo semplicemente a tornare indietro non è buona cosa la pianta ogni anno deve avere sempre un qualcosa in più perché il percorso deve essere fatto in avanti ok ciao a tutti ragazzi l'ho già detto sui social farò dei video speciali soltanto per i clienti elite ok video dove prenderò inquadrature in primo piano dove farò vedere bene o male come si potrà le piante cercando di dare un qualcosa in più alle persone che hanno scelto il livello elite ok la spesa è 49,90 avete 5 spedizioni gratuite sul sito quindi la spesa alla fine viene poi ammortizzata ok praticamente è gratis si recupera tutto ciao ragazzi mi raccomando serietà piante di livello cercate poi a un certo punto di creare una collezione che sia degna di nota ok perché sennò si finisce per continuare a mettere mano a delle robine che poi rimangono robine che migliorano però rimangono robine chi coltiva piantino da 5 euro e continua a coltivarle nel lungo periodo non lo fa mai per scelta ok lo fa semplicemente perché non ha le competenze non ci capita un cazzo e questa è la verità ciao a tutti ragazzi ciao a tutti anche da Magagna una bomba grazie mille ragazzi ciao a tutti